Allora Francesca, domenica sesta tappa di Coppa Italia, che sensazioni hai per questa sesta tappa domenicale? Allora ci siamo allenati con tanto impegno questa settimana, speriamo di riuscire a portare tutto quello che abbiamo lavorato sul campo e c'è stata un'affluenza importante agli allenamenti che ci ha permesso di lavorare molto bene quindi speriamo che abbia un buon esito in questo incontro prossimo.